Buongiorno, oggi sono particolarmente di buon umore per questa recensione perché sto per recensire un prodotto spoiler enorme di cui sono stato completamente soddisfatto. E questo comunque fa sempre piacere perché è chiaro, quando faccio una recensione se ci sono delle cose che non vanno o tante cose che non vanno, bisogna che lo dica. Ma quando un prodotto mi soddisfa, oltre che è più piacevole usarlo, ma è anche più piacevole recensirlo, insomma, dai. Ok, allora oggi parliamo di un prodotto che mi ha inviato Godox. Godox non ha visto questa recensione in anticipo, insomma, le solite cose. Mi ha inviato questo prodotto in prova e si tratta di una luce LED continua, portatile, da 60 Watt. Il modello è il Godox ML60B. B indica, perché c'è anche un modello non B, B indica che questo modello è dimmerabile anche sulla temperatura colore. Può assumere la temperatura colore da 2800 a 6500 Kelvin. Allora, il modello intanto è questo qua, è veramente, veramente portatile e arriva in una borsa che è ben costruita, ma è anche compatta come dimensioni. All'interno troviamo fra gli accessori una vaniglia, c'è la cinghia e anche la tracolla per la borsa, parabola da circa 13,5 cm, portabatterie per rendere il faro completamente portatile, perché può essere alimentato anche solo a batterie, ora ci arriviamo. Le batterie, queste no, sono opzionali, servono due batterie, ma queste sono opzionali. E poi un po' di cavetteria. Cavo abbastanza lungo, mediamente lungo, per connettere il portabatterie al faro. Cavo corto, sempre per connettere il portabatterie al faro. Poi l'ho tirato fuori per praticità. Abbiamo alimentatore di rete, in questo caso l'ho attaccato a un dispositivo che serve per attaccarlo allo stativo. Questa parte qui si mette attorno allo stativo, questa imbragatura si mette intorno all'alimentatore di rete, quindi è comodo per tenerlo attaccato a uno stativo. Poi, ultima cosa, cavo. Quindi questo è quello che viene, cavo per l'alimentatore di rete, questo è quello che viene fornito all'interno della confezione. Poi, come accessori opzionali, le accenno un attimo, ci sono softbox da 60, un octabox da 60. Questo octabox ha due veli interni, anche una, vabbè, insomma una variante per il velo interno, e viene venduto anche con la griglia, con il nido d'ape, ed è un octabox molto facile da montare, perché ha il classico sistema di apertura ad ombrello, ed è veramente si monta in un secondo, è estremamente pratico, poi vi metto il modello in descrizione. Altro accessorio opzionale, questo l'ho comprato di tasca mia perché mi serviva, è l'adattatore, questo è un adattatore che si usa per, non solo per questo tipo di logia di faro, ma anche per dei flash, è l'adattatore per il mount bowens per i modificatori. È un mount classico, mentre questa parabola e l'octabox usano un mount proprietario di Godox. Però, con questo adattatore che è bello robusto, si possono montare modificatori con attacco bowens. Ok, allora, iniziamo a parlare del prodotto perché, come ho anticipato, mi ha veramente, veramente soddisfatto. A partire dai materiali. I materiali sono di buona qualità, sia quelli del faro, ma anche quelli di tutti gli accessori. Sono robusti, sono ben rifiniti, ed è importante per un prodotto che deve essere portatile, quindi anche robusto da portare a giro. È chiaro, si fa attenzione a questa tipologia di prodotti, però quando si trasportano parecchio il problema è proprio quello. Quando mi iniziai a fotografare, che parlavo con fotografi che utilizzavano flash di alto livello, spesso la differenza, non solo, però la differenza era anche nei materiali. Quando portavano dei flash a giro costantemente, prediligevano appunto flash in metallo, più pesanti ma anche più robusti. Mentre c'erano già flash più economici che funzionavano bene, però poi a livello di struttura erano molto delicati. Va bene. Detto questo, allora, il flash appunto è un flash portatile da 60 watt, dietro ha due controlli a manopola, che sono anche entrambi dei bottoni. Uno serve per entrare nel menu. All'interno del menu si può selezionare se questa luce continua deve funzionare con telecomando, con bluetooth, si può disabilitare la ventola, dopo ci arriviamo, si può decidere se invece di luce continua farla funzionare come, tramite alcuni effetti preimpostati, come lampi, televisione, fuoco, effetti che sono meglio di altri led più economici, perché non sono così, il pattern ha un po' di variazione, non sono perfetti, però insomma sono già di un medio livello, insomma. Non è un livello base come quello di altri led, che sono proprio, hanno pattern altri molto ripetitivi. Poi tramite queste manopole cosa si può fare? Si può gestire la potenza del led da 0 al 100%, si può variare la temperatura colore. Sotto c'è un bottone che serve per accendere il faretto e poi c'è l'attacco per l'alimentazione, sia essa venga da batteria oppure da alimentatore di rete. Allora, lo sgancio di sicurezza è quello classico con il meccanismo di rilascio e poi si può andare a montare, ora per praticità andiamo a montare la parabola che viene serrata e questo poi sgancio. L'attacco per attaccarlo su uno stativo viene fornita una maniglia con filettatura da un quarto di pollice, maniglia che è sia utilizzabile appunto per utilizzare il flash a mano, sia poi per... Questo è un quarto di pollice, la stessa della filettatura della maggior parte degli sganci rapidi, delle teste sgancio rapidi del treppiedi, insomma, per il treppiedi, per il cavalletto. E dall'altra parte invece al classico attacco spigò, quello che si usa per gli stativi delle luci. Ora l'ho montato al contrario, aspettate, perché la parte davanti è quella dove... Vabbè, montato al contrario, si può usare anche così, anzi. Non è montato al contrario, è giusto. Qua dietro c'è l'attacco per il porta batterie. Sì, ecco, ok, dicevo montato al contrario, perché in effetti l'ho usato sempre dall'altra parte, anche perché il porta batterie, se no così, può dare noia all'impugnatura. Ok. Per brandeggiarlo, per utilizzarlo a mano, è meglio il porta batterie davanti. Se invece lo montate su uno stativo, valutate anche l'ero, perché se no quando andate a inclinare il faro, il softbox potrebbe battere contro il porta batterie. Comunque, insomma, va... Questo è per l'utilizzo a mano. È comodissimo. Il porta batterie, tra l'altro, ha anche un check di carica, per vedere quanta carica c'è nella batteria. Una cosa importante. Allora, funziona questo faretto con due batterie di tipo NPF 970 di Sony. ha due slot perché servono anche... cioè, perché servono entrambe le batterie, non si può alimentare con una batteria sola. Se una delle due batterie finisce, il faro smette di funzionare. Quindi servono entrambe. Ok. Ah, tra l'altro, una finezza che... L'altezza è precisa, quindi sta in piedi. Vabbè, sembra una sciocchezza, ma non è cosa da poco. E lo stessa finezza c'è sul porta batterie. Ora vi faccio vedere. Perché ha un piedino per quando si appoggia per lasciarlo in piedi. Qua sotto ha un piedino che serve a far stare in piedi il porta batterie. Ha anche un attacco per la cintura, perché questo appunto con il cavo più lungo può essere utilizzato a mano ed è molto comodo. Quindi, insomma, anche questo accessorio è fatto bene e anche pensato proprio per l'uso pratico. Ok. Allora, vediamo sulle caratteristiche. Può essere controllato, l'ho detto, tramite Bluetooth dall'app del telefono, app Godox. Abbiamo parlato, ok, accessori, materiali, alimentazione. Alla durata delle batterie. Due batterie completamente cariche durano circa al 100% della potenza, 90 minuti, un'ora e mezzo. Che non è male, insomma, perché 100% della potenza, poi se vi servono, vi serve per più tempo portare altre due batterie. Cosa positiva è che non ho mai trovato surriscaldamento. Il faro, per quanto l'abbia tenuto acceso con batterie, con alimentazione in rete, l'ho tenuto anche parecchio tempo di fila. Il faro non si surriscalda, non ho mai avuto l'alert di surriscaldamento. E non ho neanche mai percepito il rumore della ventola. Tanto che io credevo che la ventola, questa è una cosa molto importante, soprattutto se si registra video, credevo che la ventola a un certo punto dovesse azionarsi se il faro si surriscaldava. In verità la ventola è accesa sempre, ma è talmente impercettibile che anche accostando proprio l'orecchio al faro si sente proprio... Se no, non si riesce a percepire. Quindi sempre usata per registrare video, anche questo è ottimo. Si può disabilitare, però a questo punto non vedo la necessità di disabilitarla, perché per sentire bisognerebbe attaccare un microfono sopra il faro. Non lo so, comunque, se si disabilita la ventola c'è una limitazione sulla potenza che il faro può raggiungere, ma veramente non ho trovato un motivo per disabilitarla. Ok, ora, quindi diciamo che sulla parte generale del faro, caratteristiche e controlli, mi fermerei qui. Andiamo sull'utilizzo pratico. Allora, dall'1% al 100%, tramite il dimmer della potenza, ho visto che c'è una variazione di circa 3 stop nell'esposizione. Ed è un buon dimmeraggio, altri fari non arrivano così... non è così fine. Come esposizione? Allora, con l'Ottabox, con due veli, montato a circa un metro di distanza, l'esposizione su un cartoncino grigio è di 1,8 di secondo a f2.8 100 ISO al 100% a potenza. Con la parabola nuda c'è un guadagno, perché non ci sono i diffusori nel mezzo, insomma, il modificatore lavora in maniera differente, e a f2.8 si va con un trecentesimo di secondo, sempre al 100% a potenza, 100 ISO. Tolti questi numeri, vi faccio vedere, ora vi passo sopra un paio di autoscatti, prendeteli proprio per valutare, insomma, la potenza del flash, del flash, dell'illuminatore, per avere un'idea di come cade la luce. Questi scatti hanno l'illuminatore sempre a circa un metro di distanza, potenza al 50%, Octabox sempre con due veli, poi in sovrimpressione vi metto i dati di scatto. Ho utilizzato questo Octabox anche per ripresa video. Per ripresa video anche qui ora vi passo uno spezzone, sopra lo spezzone ci sono direttamente le informazioni. L'unica cosa che non ho detto a uno spezzone è che la potenza è impostata sul 30%, non mi ricordo se l'ho detto, è che l'Octabox è sempre montato e con due veli, sempre circa un metro di distanza. Allora, facciamo una prova rapida di ripresa. Sto registrando con l'illuminatore con potenza al 30% e i parametri di ripresa sono un cinquantesimo di secondo, f4, 500 ISO. Il LED è circa a un metro di distanza da me, quindi sto utilizzando solo la luce LED come luce principale e unica luce, e a parte ora quell'altro LED RGB che vedete sullo sfondo, ma non ci sono altre luci nella stanza, e questa è quello che riesce a fare insomma a livello di ripresa. Poi vedremo insieme questo spezzone, anche perché poi per commentarlo lo vorrò vedere più grande. Bene, smetto di allungare la chiacchierata, tanto insomma il senso era vedere come funziona e quanta luce riesce a fare con un solo punto luce. Ok, allora, viste tutte le prove, visto sia le caratteristiche sia il funzionamento, andiamo un po' a concludere. Allora, trovo che il faro sia adattissimo per la ripresa video, come avete visto è silenzioso perché la ventola non si sente impercettibile, e con un solo punto luce, se vi riprendete in una situazione abbastanza, come dire, circoscritta, è più che sufficiente. Quindi per ripresa video, soprattutto per riprendersi, è promosso. Lo trovo adatto anche per fotografia di still life, non ho passato prove, comunque è adatto anche per fotografia di still life, e poi, per quanto riguarda il ritratto, lascio giudicare a voi. Se è sufficiente l'illuminazione che avete visto e come cade la luce con quella distanza, con quella potenza, allora potete trarre le vostre conclusioni, ma lo trovo adatto anche per un certo utilizzo di fotografia di ritratto. Quindi, il faro adatto ha un utilizzo, direi, a tutto tondo. La potenza è che è veramente, veramente portatile, ma allo stesso tempo è robusto. Buona l'autonomia con il doppio pacco di batterie, però se lo dovete usare più a lungo dovete portare altre batterie, anche perché se utilizzate queste NPF di Sony, queste 970, sapete quanto tempo serve per caricarle. E l'altra cosa è che non scalda. Altra cosa positiva. Con supporto aggiuntivo si può attaccare qualunque modificatore Bowens. Quindi niente, come ho detto all'inizio, prodotto consigliato e non ho trovato aspetti negativi da segnalare. Per quanto riguarda il prezzo, vi lascio il link in descrizione. Perché? Perché su Amazon ho visto che è veramente, veramente variabile. C'è qualche variazione sulla configurazione, perché c'è anche una configurazione, mi pare, con il telecomando, però il prezzo è veramente variabile. Poi, non so, potete vedere il prezzo, insomma, dove preferite, se siete interessati o dove comprate abitualmente. Like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ci vediamo presto. Ciao!